salve a tutti siamo qui io francesco fusillo e maurizio marangoni e stiamo facendo una video lezione un video tutorial su come risuscitare un vecchio pc ed installare e installare solo linux allora il vecchio pc come vedete è un hp è un dual core con 3 giga di ram ecco quindi dieci anni di più si più di dieci anni bene allora questo qui è alla frutta con windows non c'è più niente da fare allora adesso noi installeremo in reinstalleremo su di linux completamente al posto di su di linux e lo riporteremo nuova vita allora adesso la macchina l'abbiamo acceso solo per far vedere questa è la chiavetta usb mostra la chiavetta usb che dovremmo inserire nella macchina e dovremmo spegnere e riaccendere il pc per fare in modo che venga rilevata dal dal bios il bios è quel programma che parte prima del sistema operativo e permette alla macchina di caricare tutto e quanto il hardware e configurarsi per la partenza allora nel prossimo avvio noi dovremmo schiacciare f9 come c'è scritto lì per fare in modo che venga rilevato il la chiavetta ecco come primo dispositivo di partenza in un'altra video lezione abbiamo fatto vedere come si accede al bios da windows 10 nel caso comunque tutte le macchine datate hanno un loro tasto di funzione per avviare la funzione di priorità di butto adesso dobbiamo spegnere la macchina e riavviarla con la pennetta dentro è una pennetta fatta con un booting in un'altra video lezione abbiamo spiegato come si fa a farla e adesso maurizio sta avviando il pc e schiacciando f9 arriva alla schermata dove si sceglie con cosa partire adesso maurizio fa partire la macchina con che qui si nota che c'è la possibilità di partire con l'hard disk con la scheda di rete o eventualmente se ci fosse dentro il dvd si potrebbe scegliere anche la partenza da dvd allora partiamo con l'hard disk usb hard disk e il pc a questo punto carica la chiavetta come prima opzione di partenza adesso carica tutti quanti i file necessari a essere vista diciamo che questa potrebbe essere anche considerata come video lezione sul funzionamento live di sodi linux perché in realtà noi carichiamo sodi linux in modalità live e poi dalla funzione installa che vedremo esposta sul desktop cliccando lì andremo ad installare su di linux al posto del sistema operativo che c'è a prescindere da quello che ci sia scegliendo nell'opzione di installazione mettiti al posto di quello e quindi noi in giargo diciamo che lo piagliamo che lo piagliamo piagliamo la vecchia macchina e installiamo sistema operativo nuovo ecco vorrei anche precisare in questa piccola video lezione che non tutti le installazioni e le attività di risuscitare le macchine vanno a buon fine perché sodi linux come tante altre distribuzioni linux fa una scansione del sistema per vedere se ci sono delle situazioni di non buon funzionamento quindi su hard disk vecchi dove la macchina non funziona bene sodi linux non va la macchina deve avere una sua integrità di buon livello altrimenti sodi linux non va non si installa ecco che noi abbiamo fatto partire la macchina si vede in questo momento sotto il linux in modalità live e abbiamo bisogno di allargare il campo così lo vedete tutto ecco bene fatto questo noi abbiamo la funzione installa che maurizio c'è la mostra con la freccia non so se si vede se si mostra maurizio con la pena che ecco lì quindi adesso la macchina e modalità live quindi io ho tutti i programmi accessibili come vedete gli applicativi sono tutti quanti disponibili eccoli qua per le difficoltà per le video lezioni per gestire immagini qua funziona tutto a parte era borde che non ha le immagini preinstallate e poi non c'è la post installazione significa aver installato tutti i software di sodi linux extra quindi diciamo funziona funziona ecco però non non è completa ci abbiamo anche la scheda di rete funzionante si vedono le reti le reti wifi disponibili basta sceglierne una si può anche tranquillamente navigare insomma in internet la doc funziona anche se funziona in formalità grafica abbastanza ridotta comunque questa sodi linux è già operativo qui sono tutti i software operativi ufficio possiamo tranquillamente scrivere writer giusto per far vedere ecco la modalità live la modalità live perché in realtà noi passiamo dalla modalità live alla installazione ecco è chiaro che un po l'entina la macchina perché sta leggendo tutto quello che serve dalla chiavetta adesso funziona scrivo casa mia funziona anche il lettore lettore da dire una cosa che quando la modalità live funziona bene come in questo caso ci sono buone probabilità che l'installazione vada perfettamente questo grazie maurizio è un'ottima sottolineatura prima di dire se una macchina è adatta completamente al funzionamento con sodi linux è meglio provarla in modalità live questa addirittura già funziona la scheda audio sentite ha già letto con una certa velocità perché nella configurazione un po veloce ecco scelto questa voce era bassa penso che dovrebbe leggerla meglio ecco troppo veloce da configurare comunque funziona tutto funzionano i software funziona l'audio internet continuano accesso interna il bluetooth è già operativo gli applicativi ci sono tutti e funziona allora abbiamo deciso che la macchina marita la nostra attenzione è il nostro passaggio bene allora adesso vediamo con attenzione i passaggi per l'installazione sostituendo il sistema operativo lancio il ubiquiti che la quella applet lì che gestisce la installazione e comincio tutti i passaggi spero che si veda mi sembra che dal mio monitor si vede la prima scelta è il tipo di lingua che voglio scegliere italiano italiano poi non connetto alla rete perché sennò si aggiorna in fase di installazione allora ci mettiamo troppo tempo andiamo avanti senza connetterci alla rete fatelo anche voi casomai la fate dopo l'aggiornamento l'aggiornamento si adesso c'è preparazione all'installazione di minte con software di terze parti io consiglio di spuntarlo perché installerete tutti quelli codec che vi permette di vedere bene le schede di rete il file flash gli mp3 ed altri formati audio e video quindi avanti è un'operazione da fare da sé non lo fa automaticamente perché si tratta di codec proprietari adesso la macchina sta già installando vedete la pallina che ruota sembra un mac come notate questa interfaccia grafica noi l'abbiamo scelta per la sua semplicità qualcuno riconosce un'interfaccia un po xp un po me che ma anche un po quello che volevamo cioè un'interfaccia molto semplice da usare per chi sa usare già xp allora qua dice la macchina installati a fianco cancella il disco installa ed è questa la nostra voce cancella il disco e installa bene fatto questo avete deciso di spianare la vecchia macchina e sostituirla corso di linux a questo punto date semplicemente il comando installa adesso dovrete decidere l'ora e la tastiera mi sembra l'ora fuso orario di roma la tastiera italiana e adesso l'utente allora noi default vero maurizio richiamiamo scuola i nostri pc vai scuola diamo sempre un nome scuola se questi pallini sono verdi la macchina va bene se sono rossi non va bene qualche volta il nome del pc è troppo lungo perché la scheda madre magari un nome faccio un esempio no è ancora verde intero vedete quando i pallini sono verdi vuol dire che quello che avete fatto e configurato è buono è un attimo il nome che vediamo qua il nome del computer quello che viene visto nella rete nella la nella rete locale questo è il nome dell'utente questo è il nome del pc nella rete e quindi se state facendo un laboratorio eventualmente nominate lo secondo criterio non solo laboratorio 1 e pc 1 pc 2 pc 3 secondo adesso come io consiglio di mettere sempre una password questo caso voi non la vedete però è quella che usiamo sempre cioè scuola perché io consiglio di mettere la password e doverla digitare ogni volta per non dimenticarla e sennò dopo tre volte di ingresso automatico ci si dimentica della password in ambiente ui e linux la password è fondamentale perché qualsiasi cosa si debba fare intervenire su software o hardware quant'altro chiede sempre la password per niente sistema sicuro insomma andiamo avanti a questo punto non si deve fare altro che aspettare che vengano copiati i file nel sistema e che venga installata la macchina è un'operazione che su una macchina di questa età può rendere una decina di minuti quarto quarto d'ora 10 minuti dipende da quanta ram c'è un processore i 5 o i 7 come oggi penso che sì forse manca meno sì 5 10 minuti se siamo operativo e su finché si carica e prima di mettere in pausa voglio dire che quando abbiamo fatto l'installazione non abbiamo finito guardate il video della post installazione perché significa completare l'installazione ed avere un sistema efficace e aggiornato e semplice che interloquisce tranquillamente con tutti gli altri sistemi cioè non è un sistema se gli applicativi fanno file che le vengono letti da windows e mac e il software che usate di più più dentro il so di linux extra che non apro perché sta facendo un lavoro molto importante sta installando un sistema operativo installerete con su di linux extra applicativi che di consueto si usano che però sono proprietari che sono di microsoft come skype google earth google chrome team view per condividere a distanza i font microsoft perché così potete scrivere ed essere visti da altre macchine nella stessa maniera ma più che altro possono interpretare correttamente i documenti che arrivano da altri pc allora adesso metto in pausa e riapriamo quando sarà finita la coppia l'installazione per vedere che cosa succede ecco abbiamo atteso oltre dieci minuti e la macchina come vedete ci permette di continuare a provare rio via ora praticamente adesso il sistema si è installato la macchina non ha più il vecchio sistema ma questo sull'hard disk qui siamo ancora modalità ram però siamo in modalità live quindi se io gli dico continuo a provare non posso andare a fare le operazioni di aggiornamento e quant'altro perché non si installano le cose come vedete c'è ancora installa perché la modalità live adesso per uscire da questa modalità togliere la chiavetta e usare davvero il il mio il mio pc con la sua installazione devo spegnere la macchina riavviare spegnere la macchina riavviare quindi adesso lo facciamo spegniamo la macchina eccola qui arresta e quando la macchina sarà arrestata completamente toglieremo la chiavetta riavvieremo la macchina e vedremo che questa volta su di linux con l'utente scuola vai maurizio togliere la chiavetta spegnendo ok togliere la chiavetta macchina spenta maurizio adesso ha schiacciato il bottone di avvio e la macchina parte prima vedevamo questa cosa non chiediamo input parte e vedrete che adesso avremo su di linux con l'utente scuola nativamente installato tutto da pronto per risultato per essere usato e per essere definitivamente installato con le altre cose della installazione post ma quindi c'è da aspettare un po è la prima volta che questa macchina viene accesa con un sistema operativo nuovo c'è a dire una cosa che la macchina non chiedere di essere aggiornata non chiede di avere la post installazione lei funziona non è come windows che in automatico partono gli aggiornamenti qui il padrone della macchina è l'utente che la usa quindi se voi avete intenzione sì l'amministratore quindi se voi avete intenzione di fare l'aggiornamento lo fate se no non lo fate la macchina non si fermerà mai finché voi lo usate eccolo qui utente scuola sessione ospite ecco maurizio scrive scuola grazie maurizio invio e adesso vedrete su di linux su questa macchina che era praticamente da buttare via e sostituirla con un'altra su di linux comunque abbastanza performante con queste caratteristiche ardua che abbiamo detto anche dal tempo di apertura del sistema potete capire la velocità come vedete ci si sta subito chiamando che vuole essere messa in rete ecco la macchina vuole essere usa in rete messa in rete è so maurizio metterà password di rete e non ha ancora finito la completa apertura il sistema perché adesso vedo ok bene adesso la macchina andrà in rete è a posto per essere utilizzata eccolo qui connesso a posto questo scudetto ci dice che ha degli aggiornamenti da fare qui c'è da fare la post installazione con gli strumenti su di linux extra che questo ambiente nuovo che abbiamo organizzato c'è altro da dire seguiti i passaggi seguiti la guida maurice c'è qualcosa da dire no basta basta allora macchina seguire altri video altre video guide sulla post installazione certo perché così com'è è già utilizzabile però è utilizzabile meglio se si fa la post installazione grazie di averci seguito per un quarto d'ora e buona sperimentazione per le guide di su di linux francesco fusillo e maurizio 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 maurizio